Ciao a tutti e a tutte da Andrea Cartotto, un nuovo videocorso estivo, vi ricordate la pubblicità Antofacalt? Nuovo videocorso estivo, dicevo, per mostrarvi un'attività carinissima da fare con i ragazzi, perché no, anche in questo tempo di vacanza e da riproporre in classe. Intanto parliamo sempre del pacchetto magnifico di applicazioni online, la Digital. Avete, lo ricordo qui sul canale, una intera rubrica playlist dedicata alla Digital. Nella selezione di apps che sto facendo, abbiamo già trattato DigiPlay, ho parlato di DigiCard e non solo, vado a scorrere, ricordatevi che qui abbiamo il descrittivo del progetto, sito di riferimento, la digitale.dev. Mi piace questo gioco di mano. Eccoci, scorrendo abbiamo i riquadri blu contenenti le differenti applicazioni. Questa volta ho scelto un'app che centra anche con il tema della sicurezza in rete, perché vediamo con la Digital come creare o far creare un avatar digitale del nostro volto. L'applicazione che ci serve è DigiFace, quella che stiamo osservando qui. Un clic su Decouvrir ci permette di avviarla. Mi piace questo effetto così scenico. E mentre sposto la mia faccia, ecco cosa troveremo davanti a noi. Per avere la lingua italiana abbiamo un ingranaggio in alto a destra, lo clicchiamo, vedete? Lingua francese, italiana e inglese. C'è già il tasto azzurro per scaricare l'avatar quando lo avremo composto. In realtà, vi dicevo, l'avatar, oltre ad avere anche una valenza emozionale per delle unità di apprendimento da fare con i ragazzi, no? Lavorare sulla percezione di se stessi e degli altri è utilissimo perché così si abituano a non mettere il loro volto come fotoprofilo dei principali servizi ed account di cui si servono. Ed allora abbiamo delle tendine, in lingua italiana naturalmente è più agevole lavorare. Capelli lunghi mossi, voilà! Capello lungo con la barba direi una finezza. Allora il colore dei capelli, come vedete, lo scegliamo dalle nostre tendine. Abbiamo gli occhi, quindi le espressioni degli occhi, nonché poi della bocca da poter scegliere, così come il colore della pelle, gli occhiali, colore dei peli del viso. Peli del viso, io direi, op, cosa dite? Sbarbato. Non sembra un po' un cantante con questi capelli biondi e gli occhiali, è battute a parte. Vi ho spiegato il perché, ecco, sia utile, oltre che divertente, creare, far creare un avatar. Peraltro c'è un altro videocorso qui, sul mio canale in cui parlo di questa tecnica. Nel momento in cui abbiamo gestito le varie tendine e la digital possiamo utilizzarla, perché è una grande applicazione che ne contiene altre da qualsiasi dispositivo, a patto di avere una discreta connessione ad internet, e dunque vi dicevo che giunti al termine, il clic sull'ingranaggio che abbiamo visto prima ci permette di osservare il pulsante scaricare, ed avere così in formato immagine il nostro avatar. Avatar che diverte i più piccoli, ma anche noi stessi più adulti. Ed è solo una delle sfaccettature interessantissime di la digital, vi invito anzi a consultare l'intera playlist. Vi do sin d'ora appuntamento al prossimo videocorso. Ciao ancora una volta a tutti e a tutte da me, Andrea Cartotto.